Valentino, in carcere dal luglio del 2015 per l'omicidio di Domenico D'Ambrosio, ucciso nel 2003 in un bar del quartiere Stanic, era stato condannato nel marzo scorso a dieci anni di reclusione dal Tribunale per i minorenni, per fatti relativi a quando era un ragazzino. Nei confronti di Valentino, difeso dall'avvocato Nicola Quaranta, era stata riconosciuta in primo grado l'attenuante della minore età ed era stata esclusa l'aggravante del metodo mafioso. La sentenza era stata appellata nel luglio scorso dalla difesa, poiché Valentino era minorenne quando partecipò al delitto, guidò la moto dalla quale furono sparati i colpi di pistola che uccisero D'Ambrosio, i termini di custodia cautelare preventiva si sono ridotti da un anno a sei mesi. Da luglio a settembre quindi la Corte d'Assise di Appello di Bari avrebbe dovuto fissare l'udienza del processo di secondo grado, ma non lo ha fatto determinando la scarcerazione dell'imputato.